Quando si dice fiore all'occhiello si vuole confermare la grande valenza che un reparto ospedaliero possiede. Nel nostro caso è il Dipartimento Cardiovascolare dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con il reparto di cardiologia e emodinamica, che rappresenta un valido punto di riferimento anche fuori dai confini provinciali. Rappresenta cioè il fiore all'occhiello per la sanità agrigentina. A fornire lo spunto per affrontare l'argomento che tanto malumore sta creando in città è il dottor Giovanni Vaccaro, medico cardiologo nonché assessore dell'Aggiunta Miciche. Vaccaro interviene sulla mancata riconferma del dottor Giuseppe Caramanno a capo del Dipartimento Cardiovascolare dell'Ospedale di Agrigento. Si dice per dei malintesi con il commissario dell'Asp, Mario Zappia, forse una erronea interpretazione. Fatto sta che il commissario, sorprendendo tutti, ha deciso di sostituire il dottor Giuseppe Caramanno con un primario di Enna. Da qui l'intervento di Giovanni Vaccaro, il quale, auspicando la riconferma di Caramanno, ribadisce il disagio che la vicenda sta suscitando all'interno del reparto. Senza nulla togliere al collega di Enna, dice Vaccaro, mi preme sottolineare che il dottor Caramanno rappresenta per la cardiologia un punto di riferimento di coesione professionale e organizzativa per le sue qualità umane e lavorative. Mi sembra opportuno, aggiunge Giovanni Vaccaro, che si rinnovi l'incarico al dottor Caramanno, il cui contributo professionale è indiscutibile. La mancata riconferma al vertice del Dipartimento Cardiovascolare di Caramanno è un provvedimento inaccettabile proprio per il ruolo che l'interessato ha svolto nell'interesse dei pazienti che a lui si rivolgono conoscendone le qualità. Pazienti che vanno tutelati adesso anche dalle polemiche. Perché la sanità è una cosa seria. Intanto sulla vicenda qualcuno ha chiesto all'assessore regionale Razza di farsi sentire. Non rimane che attendere.